Buona occasione per Censche, può concludere, e si, trova Marete E nonostante l'aggressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rotte E' un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato in repotenza, era un gol E qui sarebbe l'ultima a merdo e fondo di gol per questa settimana Mostrano un buon contello nel gioco Buona casione per Censche, il better gratuito Grazie a tutti Grazie a tutti